però tu mi stavi invitando qua a questo utente e non a quello che avevi tu vecchio no perché io non devo essere ingegnere informatico per usare un programma di messaggistica ma io ho iniziato a registrare da adesso quindi quello che ho detto prima è proprio... allora sei una merdina e di videochiamate di... dai 20 minuti che do delle testate si lo stiamo facendo tu ci hai tolto il momento magico del fuori onda con la nostra privacy perché adesso è come essere su strizia dove qualsiasi cosa potrebbe essere poi usata con le pernacchiette sotto benvenuti alla quattordicesima puntata di Gioipa dove roccorri salta e spara noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini questa puntata si intitola quella con il gioco di questa generazione e il gioco di questa generazione è un gioco che esce oggi e noi adesso vorremmo parlarvi di un altro gioco che esce oggi e che noi vogliamo premiare per il suo coraggio, la sua speme e la sua natura di piccolo Davide contro un gigantesco Golia però un Davide che muore malissimo non un Davide che ce la fa sì, no, poi dopo moriva però nello slancio, mi piaceva questa cosa Is o Wise, non lo so Memory of Celsetà ma cos'è sto gioco? ma io non ne so niente Zampi cos'è sto gioco? allora diciamo che è un po' più vicino alle mie corde di 15 o 20 anni fa e fa parte di una serie di giochi di ruolo con anche un'abbastanza forse nutrita, forse no nicchia di fan questa è la riedizione di un gioco di ruolo giapponese action del 2012 o 13 su PS Vita che decide inopinatamente di uscire oggi insieme a The Last of Us Part 2 io penso che, insomma, a modo suo vada riconosciuta questa cosa perché loro si sono messi lì hanno visto calendario alla mano quando è una data libera? questa, prendiamola va che gli facciamo controprogrammazione sono d'accordissimo è un gioco del quale si fatica a pronunciare il nome il titolo perché voi dite Is e ne sapete molto più di me secondo me è Wise perché è Iscola? ma io mi accodo a Zampa la motivazione è ho sempre detto Is allora noi che abbiamo iniziato a giocare almeno io questi giochi quando ancora dell'inglese si sapeva ancora meno rispetto ad adesso la pronuncia di alcune cose rimane ancorata alle prime volte che le leggevo e le pronunciavo questo per me è sempre stato Is e rimarrà sempre Is il nome Memory of Celceta? Celceta, sì sì comunque ragazzi ha un metascore di 82 è più che dignitoso vabbè perché quelli che gli vanno dietro gli vanno dietro fortissimo è come recensire un gioco di feticismo dei piedi con le unghie colorate di nero sono pochi allora io direi ringraziamo Is per averci fatto arrivare alle unghie alle unghie dei piedi e passerei anche oltre non so ditemi voi io posso gestirla una puntata di 30 o 40 minuti solo su questo io purtroppo no io purtroppo no quindi secondo me possiamo arrivare al vero protagonista della puntata di oggi fermo il gioco dell'anno il gioco di oggi e il gioco della generazione è l'ultimo colpo in canna di Sony non lo so se vogliamo tenerla ancora più lunga no è The Last of Us parte seconda che esce oggi e che stiamo aspettando e che arriva come un oasi nel semideserto di questo periodo di lockdown coronavirus quarantene crisi eccetera in cui se vogliamo dedicarci ai giochi grossi alla fine dell'anno scorso è arrivato Death Stranding poi è arrivata Nintendo a darci la serenità e questa specie di droga tossica per Switch durante la quarantena e poi è arrivato un giocone che è appunto The Last of Us parte 2 l'ultimo titolo sviluppato da Naughty Dog e Matteo preparati tu dicevi se vogliamo tenerla un po' più lunga in realtà per come è fatta la puntata prima di iniziare a parlare del gioco dobbiamo parlare tutto del contesto infatti zampa questo blocco perché a noi piace così uno riceve la notifica del podcast con immaginandosi che si parli di The Last of Us e noi lo facciamo ma dopo che gli abbiamo triturato e l'abbiamo tenuto sulla corda per una vita va bene infatti infatti questo blocco zampa l'aveva pensato l'aveva chiamato l'ultimo colpo in canna di Sony ha sottolineato breve quindi cercheremo di essere comunque concisi perché di fatto The Last of Us parte 2 segue un po' diciamo la stessa sorte di altri prodotti che nelle scorse generazioni hanno chiuso quelle stesse generazioni rappresentando anche un po' il loro apice guarda caso nella scorsa generazione quindi proprio alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3 era toccato proprio al primo The Last of Us che già guardava con un occhio a questa gen e che appunto insomma forse rappresentò anche non solo l'ultimo capolavoro di quella generazione ma anche il recupero perché Sony era un po' in affanno rispetto a Microsoft rispetto all'Xbox 360 e con gli ultimi capolavori è riuscita all'epoca a chiudere un po' il gap diciamo diciamo che storicamente le generazioni di Sony durano quanto l'intero ciclo di vita della console a differenza di Microsoft che nell'ultimo anno gli ultimi due anni tende un po' a mollare il colpo e concentrarsi sul passo successivo Sony da sempre ha sempre sfruttato la sua console fino alla fine nella prima PlayStation anche se non era un gioco suo ma di di Squaresoft al tempo uscì Final Fantasy 9 praticamente negli ultimi negli ultimi mesi di vita della console e fu un gioco enorme nella 2 praticamente pochi mesi prima del primo Uncharted uscì God of War 2 tra l'altro di Cory di Cory Barlog che è lo stesso che poi è ritornato a fare il nuovo God of War e poi PlayStation 3 con The Last of Us quindi insomma diciamo che è un po' un anche un modo di di approcciare il ciclo di vita della console da parte di Sony che è un po' più completo e soprattutto punta a massimizzare al massimo la diffusione della macchina fino alla fine e quasi sempre succede anche che appunto i titoli arrivati nell'ultimo periodo di vita di una console siano anche tecnicamente un po' più brillanti rispetto già a quello che si incomincia a vedere della generazione successiva infatti devo dire che guardare anche The Last of Us parte 2 è un gran bel vedere e forse non sfigura rispetto a nessuna delle produzioni che si sono viste durante l'evento di presentazione della line-up PlayStation 5 in questo caso e un po' succedeva così anche con il vecchio The Last of Us che rispetto alla line-up di lancio di PS4 era già insomma aveva le spalle più larghe bisogna dire che è un'ultima spremitura della pianta che ormai conosci perfettamente e puoi estrarre il succo migliore dall'altra parte c'è sempre il tempo che stringe molto più del solito perché devi uscire per l'uscita della console perché hai dei contratti stringenti ci sono a volte delle differenze di chipset ci sono degli altri intenti perché spesso quando c'è una nuova console lo studio che si mette a sviluppare per la nuova console deve rendere evidenti le caratteristiche tecniche cosa che nel realizzare The Last of Us 2 Naughty Dog non ha assolutamente dovuto fare lo ha fatto perché gli serviva però all'inizio della vita di una nuova console c'è sempre un elemento spettacolare in più e c'è un pochino meno profondità perché ovviamente stiamo dicendo a spanne però tendenzialmente ci si concentra molto sulle differenze sul gradino e il gradino è molto facile che sia un gradino tecnico fatto di numeri e non di profondità di scrittura perché quello invece ha a che fare con squadre navigate autori ispirati e gente che è capace come è il caso di Dracman e dei suoi bene l'abbiamo detta questa cosa dell'ultimo colpo in canna di Sony prima della PS5 l'abbiamo detta se pensate che si stia parlando di si stia per parlare di The Last of Us parte 2 vi sbagliate di grosso perché bisogna parlare di chi ha fatto The Last of Us parte 2 almeno secondo la volontà insomma ferrea di Zampa e allora è arrivato il momento in questa puntata di Joypad che lo ricordiamo è sempre quello di Corri salta e spara è arrivato il momento di parlare di quelli di Naughty Dog io degli inizi di Naughty Dog che sono indicati nella scaletta di Zampa non so niente io prima di Crash Bandicoot non so una mazza devo andare su Wikipedia potresti oppure ti posso dire io che da quando è nata Naughty Dog a quando hanno pubblicato Crash Bandicoot sono passati 11 anni 11 anni in cui Andy Gavin e Jason Rubin Rubin che poi andò in THQ quando THQ non è che se la passasse benissimo programmarono e svilupparono giochi partendo dall'Apple 2 e passando per per Amiga e anche Mega Drive all'inizio pubblicati un po' per conto loro un po' da Baudville passarono poi a Electronic Arts fino ad arrivare alla fine con Crash nel 96 su Playstation tra l'altro da lì in avanti non lo so a me la carriera di Naughty Dog ha sempre ricordato molto Harry Potter cioè partono dalla roba un po' così scansonata mano a mano salgono di tono perché dopo Crash ci fu la trilogia di Jack and Dexter dopo Uncharted e poi The Last of Us quindi adesso secondo me con The Last of Us parte 2 siamo tipo a metà tra il principe mezzosangue e i doni della morte mi sembra un parallelismo un po' verso il prigioniero di Azkaban sì sì mi piace mi piace sono cresciuti loro col pubblico e sono partiti da 1985 Matt Jam per Apple 2 sì allora di quella di quella formazione è rimasto è rimasto abbastanza poco perché il passaggio tra PlayStation 2 e PlayStation 3 ha visto sia Gavin che Rubin andar via e arrivare Evan Wells mi sembra ma qui sono delle pezzate sono questi sono dei tempi talmente dilattati che può inserirsi anche il tristo mietitore qua ah beh certo chiaramente parliamo di decenni di gente che è attaccata alle macchine a smacchinare sulle tastiere anche un user è andato via da Rockstar quindi può succedere tutto appunto c'è anche da dire che nella prima parte del ciclo cioè della loro vita produttiva hanno proprio sono proprio passati da un brand all'altro cioè Dismesso Crash sono passati a Jack Dismesso Jack Jack and Dexter sono passati ad Uncharted Uncharted e The Last of Us sono i primi brand che un po' si intersecano perché comunque tra il primo e il secondo The Last of Us ci sono stati due capitoli di Uncharted diciamo il 4 e poi l'eredità perduta anche quello però è un capitolo chiuso non si sa se sarà chiuso The Last of Us se vorranno raccontare altre storie ambientate in quell'universo in quel mondo stanno già guardando al futuro io spero un po' che nella prossima generazione si veda anche una nuova IP da parte di Naughty Dog non so se è una speranza comune eh beh ormai Uncharted hanno detto che non sono contenti dell'approdo non vogliono raccontare più storie di quel in quell'universo e quindi io vorrei un'altra nuova IP anche perché è vero che c'è stata questa ma io ho smesso di piangere da 5 minuti ma già devi rompere le palle con un'altra IP beh si guarda sempre il futuro bisogna vedere anche che traiettoria prendono perché da qui al passo alla roba melanconica con gente oppressa che sta morendo malissimo di qualcosa ed è solo disperazione e distruzione è un attimo no no tornano secondo me tornano a ricercare un po' più di leggerezza in futuro sempre insomma mantenendo il loro know-how legato alla narrazione di ampio respiro insomma anche la presenza attoriale all'interno dei videogiochi ma secondo me cercheranno di cambiare un po' genere si vocifera che possano fare una puntatina dalle parti del fantasy e non mi dispiacerebbe abbiamo parlato più che a sufficienza del passato di Naughty Dog e ora il momento che grandi e piccini aspettavano mentre Zampa cerca di distruggere la sua cucina ovvero il momento in cui parliamo del gioco dell'anno e anno è poco credo che siamo tutti d'accordo su questo ovvero The Last of Us parte seconda d'accordissimo per ora poi insomma l'anno ancora non è finita ma sarà dura anticipo questo sarà dura secondo me fare di meglio no ma allora nell'anno secondo me stiamo giusto mantenendo un po' di aspettativa io voglio già dire che serenamente è di questo decennio io una volta che l'ho finito sono uscito esattamente come dopo aver visto Mad Max Fury Road cioè con quella sensazione chiarissima che ti trovi davanti a una cosa di cui se ne parla per il almeno decennio successivo e che comunque segnerà in modi vari quello che ci sarà dopo sì sì una cosa epocale sono d'accordo perché fa tante cose a livello narrativo mai tentate prima nel mondo dei videogiochi e poi ti lascia dentro ti lascia forse anche un po' cambiato però se vogliamo partire dal principio Matteo sì allora cerchiamo in questo blocco di raccontarvi quello che possiamo per non fare nessuno spoiler di nessun tipo quindi se quando poi giocherete avrete l'impressione che non ve l'abbiamo raccontata giusta cercate di capirci dobbiamo preservare le vostre emozioni e soprattutto se adesso vi sembriamo vaghi un po' ubriachi è sempre per preservare l'esperienza che è diciamolo subito un'esperienza doppia e un po' rispetto a quella del primo capitolo cioè il gioco dura 33 35 ore una cosa così un po' meno io l'ho finito in una trentina di ore ok 30 ore abbondanti diciamo a seconda di quanto si desideri esplorare il mondo di The Last of Us quindi è un gioco lungo e ambientato nello stesso universo del primo capitolo ma ci siamo spostati avanti di qualche anno quindi se nel primo capitolo la civiltà era stata toccata da un'epidemia l'epidemia di Cordyceps cioè il fungo che attacca insetti artropodi ma che nell'universo di The Last of Us fa il salto e prende l'uomo quindi questa grande epidemia ha distrutto la società i nostri personaggi nel primo capitolo sopravvivevano dentro al momento della distruzione ora sono passati un po' di anni quando ritroviamo Ellie ha quasi finito la teenage è 19enne e è una giovane donna una ragazza che un pezzo della sua vita l'ha fatto durante l'epidemia cioè ormai tutti si sono abituati la società ha cambiato un po' forma quindi non è più tutti contro tutti si è un po' riorganizzata questo lo possiamo dire giusto? possiamo dire che la società sono nati come se ci fosse stata una specie di diaspora generale tutti vanno da tutte le parti dove riescono e poi piano piano si riagglomerano dei gruppi sociali diciamo che la società sta resistendo come può si riformandosi in piccole in piccoli gruppi esatto secondo me nel secondo episodio questa questo elemento è centrale cioè non c'è più una società ci sono diversi gruppi che sopravvivono un po' come possono dandosi alcune regole che un po' dipendono anche dal contesto in cui questi gruppi si sono collocati ecco nel contesto anche delle città ambientale dici ambientale esatto sì sì e secondo me questo è una tematica abbastanza centrale come dicevo nel secondo capitolo e anche perché il secondo capitolo li mette proprio un po' a confronto trova il modo di metterli a confronto questi gruppi e fa capire che di fatto insomma c'è una distanza abbastanza importante fra l'umanità e la civiltà l'umanità è qualcosa che forse pertiene a ognuno di noi singolarmente la civiltà è proprio un insieme di regole che magari viste dall'esterno del gruppo possono essere anche un po' incomprensibili però insomma poi bisogna sempre mettersi anche nell'ottica nei panni dell'altro per cercare di comprenderle magari sì appunto ribadisco parliamo così non perché abbiamo una pistola puntata ma perché non dobbiamo fare spoiler è complicatissimo essendo stati immersi per ore e ore avendone parlato tra di noi per un sacco la società condivisa grande che condivide tanto la nazione le regole quella non esiste più siamo scesi di un livello e siamo ritornati a un livello tribale tribale evoluto con conoscenze tecniche tutto quello che vogliamo ma non siamo lontanissimi issimi dico dal mondo di horizon siamo un po' meno tribali di quello però siamo da quelle parti là conosciamo la tecnologia abbiamo sviluppato in alcuni casi dei nuovi riti delle nuove ritualità dei nuovi ruoli però cerchiamo di ricostruire dal basso dentro a questo mondo si muove Ellie che è sempre lei giovane dinamica lo possiamo dire l'abbiamo scoperto dal primo capitolo che ha la caratteristica di non ammalarsi cioè è immune al fungo omosessuale e diciamo determinata come era nel primo capitolo e allo stesso tempo un po' segnata da alcuni eventi da questa nuova società così divisa separata dove ci sono sempre comunque i sani e gli infetti quindi i sani tutti organizzati in questi nuovi modi gli infetti che sono sempre gli infetti e fanno brutto da questo senza spiegarvi bene scaturisce il tema diciamo il torrente che scorre lungo tutta la storia che è l'odio e il desiderio di vendetta che è di per sé un tema non facile da trattare nel mondo dei videogiochi soprattutto quando lo fai abbracciare ad una protagonista che tu ti trovi a controllare perché è vero che il mondo di The Last of Us è sempre stato molto spietato e che era impossibile trovarci degli eroi e anche nel primo capitolo Joel che era il protagonista centrale di quella storia non era un eroe ma chiaramente era mosso da un obiettivo positivo un sentimento positivo che era quello appunto di portare Ellie dall'altra parte dell'America nella speranza di trovare una cura per per l'epidemia e qui invece il sentimento che muove la protagonista è un sentimento come diceva Matteo di odio che non necessariamente il giocatore si trova ad abbracciare e quindi c'è un'operazione insomma non facile da fare perché infatti qua gli sviluppatori hanno fatto probabilmente l'unica cosa saggia che potevano fare e cioè se ne sono tenuti alla larga hanno tolto qualsiasi tipo di giudizio di giudizio su quello che sposta quello che sposta Ellie lasciando semplicemente decidere probabilmente a chi gioca in base alle azioni che le fanno compiere se condividere abbracciare a pieno questo sentimento oppure sviluppare una sorta di distacco di stacco su quello esatto il meccanismo la dinamica tra spettatore diciamo così e personaggio è simile a quella di Tony Soprano se avete visto i Soprano di Walter White se avete visto Breaking Bad cioè è un personaggio che si ama nei confronti del quale si ha un trasporto di cui si comprendono avendo così esaminato e vissuto pezzi della sua vita si comprendono le azioni ma non si condividono e in qualche caso si fatica anche a comprenderle ovviamente questa complessità di personaggio nel videogioco come diceva Fossa diventa ancora più complessa perché è vero quello che diceva Zampa tu puoi decidere a seconda di come ti poni se godertela vivertela questa onda di odio o sopportarla in ogni caso sei portato a comportarti come si comporta Ellie a vivere il suo carattere il suo impeto la sua indole di questo momento quello raccontato in questo gioco che è molto violento è molto violento lo diciamo subito ma è molto violento sempre con una ragione in questo gioco non esiste un elemento arbitrario che sia uno nel senso che per esempio anche la rappresentanza dei generi delle varianti identitarie più diverse dell'umanità non è mai segno opportunistico di una cosa che fai perché la devi fare perché ci sono se ne discute quindi è giusto includere i personaggi LGBT e allora li metto un po' come se fossero un condimento no no qui c'è proprio il desiderio di abbracciare personaggi che hanno sfaccettature in più che sono più complessi nel modo in cui si interfacciano con la società e le società del gioco e in assoluto tra di loro e quindi si creano relazioni che sono che sono meno tradizionali meno prevedibili più liquide e migliori dal punto di vista narrativo e non vengono soprattutto mai spiegate mai non c'è il momento in cui si portano avanti queste istanze in qualche modo come dicevi sono così semplicemente perché sono così quei personaggi ed è giusto che si comportino in quel modo vogliamo parlare della bellezza del gameplay di questo gioco io guarda giusto un minuscolo appunto anzi neanche un appunto ma un certificare il tipo di lavoro che ha fatto Naughty Dog proprio su qualsiasi livello ed era proprio riferito a un po' il tipo di interazione che c'è tra il giocatore e Ellie una delle critiche che gli hanno fatto in tempi recenti soprattutto verso Uncharted era questa specie di scollamento tra il fatto che loro fossero dei personaggi positivi soprattutto in Uncharted anche un po' scanzonati e cazzoni al fatto che facessero di fatto delle stragi totali e uccidessero chiunque gli si perrasse davanti ora al netto del fatto che potrebbe essere anche una una critica un po' pretestuosa qua a me è sembrato elegantissimo il modo in cui invece sono riusciti a mantenere quella parte ludica che è sempre quella un po' delle sparatorie delle infiltrazioni ma hanno dato hanno provato a dare a livello narrativo più peso ad ogni singola morte trasformando questi NPC in i soldati random che incontri in personaggi e persone soprattutto vere ognuno di loro ha un nome che è sempre diverso tendono a spaventarsi se prima partono in dieci a fare una battuta di caccia e poi tu mano a mano li uccidi e loro a un certo punto nei dialoghi tra di loro si spaventano sempre di più si sentono braccati esattamente come tu ti senti braccata all'inizio si chiedono dov'è il loro compagno si chiamano per nome e è logico che questo non va non fa cambiare il modo in cui tu giochi però tende a farti empatizzare un po' di più con loro e almeno nel mio caso io qualche ho fatto molte più sezioni in cui cercavo semplicemente di evitarli proprio perché a modo suo un po' hanno cercato di riversare il peso delle uccisioni che fai sul giocatore e non lasciarla una cosa che invece scorre via in maniera così semplice come era prima ora Zampa stava introducendo appunto anche quello che dicevi tu Matteo le meccaniche di gioco come si gioca però prima di passare al gameplay io forse giusto un paio di accenni per chiudere diciamo la parte relativa alla narrazione ovvero che rispetto al primo capitolo sono cambiati molto i ritmi del racconto il primo capitolo era fatto di scene molto asciutte sintetiche essenziali io avevo parlato anche con Drakman che poi era uno degli autori del primo episodio e è stato confermato insomma anche nel secondo mentre l'altro che è Bruce Straley adesso non lavora più in Naughty Dog e all'epoca lui diceva proprio di aver lavorato sul rimuovere quanto più possibile dalle scene d'intermezzo per lasciarle proprio condensatissime mentre stavolta i tempi sono proprio molto dilatati si racconta il racconto si prende molti spazi si allunga e cambia anche proprio il modo di l'incedere perché il primo capitolo era il racconto di un anno qui invece lo spazio di tempo che viene raccontato è tutto condensato in una manciata di giorni ecco diciamo e poi vabbè giusto un giudizio di massima secondo me è un racconto proprio che ti ti entra sotto pelle piano piano si svela poco a poco quasi come se continuassero a mettere dei piccoli pezzettini di un puzzle che di volta in volta ti fa scoprire dettagli nuovi e poi è un racconto comunque che ti lascia distrutto ti lascia completamente distrutto a interrogarti anche su alcune delle tue categorie etiche secondo me si c'è in questo gioco è quella cosa che colpisce di più nel corso dell'esperienza una moltitudine di emozioni e una moltitudine di toni e di registri e di generi che è veramente inedita perché c'è la tragedia greca lotto volante indiana jones il survival horror la commedia romantica il documentario naturalistico cioè esistono una quantità di momenti di emozioni di generi che sono rari perché poi ciascuno colpisce cioè i momenti dove c'è divertimento tra le persone si respira un così un sentimento dolce di amicizia di vicinanza d'amore sono vivissimi e sono molto intensi i momenti di rabbia pura lo sono altrettanto quando c'è da spaventarsi a volte ci si spaventa pesantemente è un gioco che a tratti fa di grignare i denti le persone meno sensibili avranno probabilmente un momento di pianto meno sensibili no ma insomma che fanno più fatica a mettersi a piangere una volta il massimo della commozione mostri quegli aridi senza un cuore o con un cuore di pietra se magari li esprimono fanno più fatica a esprimere direi uno meno di uno farsi delle domande più di quattro cioè arrivati a quattro farsi qualche domanda sempre perché attenzione c'è la discriminante importante se avete dei figli se avete delle figlie femmine comunque potete alzare il numero di pianti di almeno tre o quattro unità sì prima di preoccuparvi io sono a quattro no no ma tu zampa puoi perché noi vediamo questo lato dolce poi conosciamo il lato canaglia e vanno più o meno a pari dal punto di vista del gioco in alcuni momenti è abbastanza vicino a Metal Gear Solid all'infiltrazione dici beh sì c'è anche tanto stealth nel linguaggio videoludico viene identificato così però complessivamente insomma è un po' no nel senso che anche lì c'era questa cosa nell'ultimo Metal Gear Solid c'era c'era stata questa umanizzazione dei personaggi caratterizzazione più profonda eccetera è come se avessero preso quelli di Naughty Dog un po' il meglio da tutto perché nel primo capitolo sì esisteva il mondo della c'era lo stealth ma difficilmente erano interi palazzi da affrontare capendo da dove entrare avendo diverse strategie cioè qui l'equilibrio fra la parte più prettamente narrativa romanzesca è anche un romanzo di formazione sia tragedia greca che romanzo di formazione tutto quanto quella parte lì e il gioco sono talmente equilibrati che finito di giocare non ti ricordi solo i pianti non ti ricordi solo i momenti di grande emozione grande commozione ma ti ricordi anche delle mezz'ore delle ore di gioco in certi ambienti che sono disegnati realizzati in maniera impeccabile ma ricca sì sì si entra e si esce dalle cutscene con grande eleganza quasi senza accorgersene e quando ci si trova fisicamente a giocare il gameplay è molto teso c'è sempre insomma una richiesta di attenzione costante da parte del giocatore tutti i sistemi sono ottimamente integrati quindi l'obiettivo è quello di superare insomma queste zone solitamente piene di nemici che possono essere nemici umani o infetti un po' tirando fuori il meglio dalle risorse che l'ambiente stesso ci dà quindi c'è una fase di esplorazione scoperta dell'ambiente per trovare dei materiali materiali con cui poi è possibile forgiare o costruire molotov silenziatori che permettono appunto di eliminare le minacce in diverse maniere quindi c'è un po' di esplorazione un po' di infiltrazione silenziosa un po' di azione e si passa dall'una all'altra senza soluzione di continuità è tutto molto fluido e piacevolissimo e la varietà anche delle meccaniche di gioco secondo me è impressionante forse è una cosa che un po' al primo capitolo mancava arrivavi ad un certo momento in cui gli scontri nel primo capitolo non ti davano più entusiasmo più soddisfazione non ti davano una sensazione di novità e quindi le affrontavi solo per arrivare alla scena d'intermezzo successiva che eri sicuro sarebbe stata molto di soddisfazione esatto e invece qua dura il doppio come dicevi tu del primo capitolo dura 30 ore e per 30 ore ogni singolo scontro è soddisfacente un po' perché appunto il gameplay è estremamente vario e un po' perché le aree sono disegnate in una maniera incredibile diversificate realistiche ogni volta ti sembra di fare comunque qualcosa forse non diverso nella sostanza però che ha qualche elemento nuovo rispetto a quello che hai fatto nelle 10 15 20 ore precedenti anche perché il ritmo e la varietà delle situazioni spesso ti porta nel primo c'era un'alternanza quasi quasi uno a uno tra l'incontro con una situazione con gli infetti poi una situazione con gli umani e poi di nuovo gli infetti qua invece la varietà è tale che si continua a cambiare e soprattutto si passa da una scena di infiltrazione a una dove si deve dove si deve scappare a una dove si deve combattere per forza e poi ti puoi di nuovo nascondere e forse è il caso di dirlo con chiarezza estrema è un gioco colossale ma colossale nel senso che è difficile immaginare un aumento qualitativo e quantitativo da un secondo capitolo rispetto al primo io a mia memoria non me ne ricordo un gioco che andando al numero 2 possa così tanto ampliare e migliorare il precedente che già era un gioco grosso la varietà delle situazioni i livelli l'ampiezza di certe di certe aree il fatto che alcune zone siano sviluppate solo per aumentare l'immersività di quel contesto dove magari voi andate a cercare per 5 minuti in un cassetto di uno spazio di co-working e non c'è niente perché è giusto che non ci sia niente non c'è il forziere come in Final Fantasy 7 Remake non c'è una fava perché hanno già raccolto tutto e tu comunque sei andato là a cercare qualcosa perché hai trovato quello spazio e volevi scoprire com'era quell'angolo di mondo e comunque a livello produttivo questa è una cosa che impatta cioè c'è quasi zero riciclo degli asset una cosa anche un piccolo dettaglio Ellie quando potenzia le armi trova dei banchi da lavoro in cui potenzia le armi ha un set di armi ogni arma ha 3 o 4 potenziamenti se lei ne modifica una cosa per dire la gittata della modifica la canna o di una pistola lei ha un'animazione specifica solo per quella modifica questo vuol dire che comunque loro hanno pensato sviluppato e realizzato una serie di modifiche che tu potenzialmente potresti non vedere perché in una prima run non sviluppi tutto però vedere che tu schiacci modifica pistola canna e vedi lei che prende smonta la pistola della canna la pulisce con lo scovolino e la ripara accende la ciabatta del banco da lavoro è tutto un set di animazioni e questo viene moltiplicato per tutte 30 ore di gioco e tu dici vabbè ma c'è il perk soldi infiniti è chiaro che è stato sbloccato per poter sviluppare una roba del genere si sa quanto è costato questo gioco fra no non si sa non si sa questa cosa che ha detto zampa comunque non c'è solo nell'animazione delle del potenziamento delle armi era campione era proprio un dettaglio perché era la parte più non so come dire più legata al gioco per cui puoi andare al risparmio e dici semplicemente ok è modificata e invece no però è bello che ci sia anche nel mondo di gioco proprio tanto contenuto completamente chiamiamolo opzionale nel senso che proprio il giocatore potrebbe non imbattersi non passare in alcune stanze non imbattersi in alcune storie chiamiamole secondarie anche se poi non sono a livelli delle side quest classiche di tanti altri giochi che ti vengono indicate appunto da un'icona però può capitare appunto che ci siano dei palazzi completamente facoltativi da esplorare al cui interno ci siano storie nascoste di narrazione esplicita o implicita quindi documenti che tu trovi che ti raccontano le storie tragiche di chi non è sopravvissuto all'infezione ma anche una appunto narrazione implicita legata al posizionamento di certi corpi è un mondo veramente pieno di storie anche infinitesimali e alcune di queste il giocatore potrebbe anche non incontrarle mai perché decide di non approfondire diciamo l'esplorazione e saltare dei palazzi in cui non è chiamato a entrare ed è impressionante come diceva Zampa a livello produttivo cioè io l'ho proprio definito nella recensione un miracolo produttivo perché è vero che ci hanno messo tanto a svilupparlo però non esiste un gioco di stampo narrativo che riesca a far coesistere quella densità di dettagli quella intensità narrativa e quella varietà di asset di scene di linguaggi è proprio una cosa che non ci si crede e vi assicuro che anche premettendolo qui quando ci giocherete resterete sicuramente stupiti sì è un mondo pieno di sfumature in questo molto simile al mondo reale a patto che uno abbia voglia di andare a cercarle cioè ci sono se vai ma il gioco non fa niente per tirartici a forza perché ha speso i soldi per disegnarle inventarle e allo stesso tempo sono lì quindi la perlustrazione è vera l'esplorazione è vera anche nei suoi effetti più profondi noi tutti e tre vorremmo parlare molto più profondamente di così di The Last of Us 2 perché è verissimo che proprio dal punto di vista tematico ma filosofico morale a un certo punto tra un po' faremo una puntata solo spoiler in cui si parla di The Last of Us 2 magari di qualcos'altro a cui abbiamo giocato recentemente partendo dal presupposto che chi ci ascolta ha finito così almeno ci possiamo dedicare perché adesso veramente il gioco esce e merita tutte le vostre sorprese e tutti gli sbandamenti tutte le virate che i personaggi affrontano nel corso del loro sviluppo che è uno sviluppo assolutamente non canonico non previsto e non monotono appunto non canonico ci sono bellissimi videogiochi che rientrano in un genere e ripetono delle strutture classiche come se fosse la commedia dell'arte qui non c'è niente di tutto questo al di là di grandi filoni narrativi di grandi argomenti come appunto la vendetta l'amore eccetera il resto è tutto come non te lo aspetti nel come e nel cosa possiamo ritenerci soddisfatti avete da fare delle postille di qualche tipo? possiamo anche tenerle per quando poi ne parleremo dopo che la gente ci ha giocato sono d'accordo ed eccoci arrivate lo dico orgogliosamente perché abbiamo giocato a The Last of Us 2 e siamo state Ellie all'ultimo capitolo della nostra puntata che è quello dedicato agli argomenti a piacere comincia Zampa con il suo argomento a piacere allora nonostante già veda un timido tentativo di di ammutinamento sulla sulla mia scaletta io vorrei rimanere all'interno dei giochi diciamo di atmosfera e per questo vi consiglio ma proprio caldamente di se non ci siete già stati farvi un giro a Rapture e a Columbia su Switch perché è uscita qualche settimana fa per la console Nintendo l'edizione remaster dei tre giochi di 2K il primo e il terzo di Irrational Games quello di Ken Levine dove insomma si riprendono in mano due tra i tre giochi più belli della della passata generazione sono anche lì giochi davvero non hai detto il titolo ancora sì ho già detto Bioshock sei sicuro non l'avevo sentito comunque Bioshock non stiamo parlando di patatine cotica aveva detto aveva detto Rapture Columbia eh lo so Irrational Games allora Bioshock non è un gioco da prendere scusami Zampa se ti interrompo da prendere sotto gamba sicuramente il primo e in seconda istanza il terzo cioè sono proprio dei giochi che hanno lasciato un segno scusa prego no no figurati è proprio perché hanno lasciato questo segno riprenderseli se ci avete già giocato o ancora meglio se non lo avete fatto nell'edizione che è uscita su Switch secondo me è un bel è un bel colpo bene tocca a me che mi ammutino ammutino che mi rifiuto ho deciso ho imparato come si dice in giapponese ho deciso ho intenzione di oppormi non credo che mi servirà mai però se un giorno farò parte di una commissione in Giappone e prima qualcuno mi verrà a chiedere saprò dire ho intenzione di oppormi e e che poi non ce lo racconti come si dice si dice hantai shioto omo ho intenzione non lo sai benissimo però comunque non voglio dare un consiglio il mio consiglio è alla luce del fatto che pochi giorni fa ho finito The Last of Us 2 che non dovete fare siccome la vita è fatta di tante cose si leggono i libri si vedono i film si fanno le cose bisogna avere una vita sessuale bisogna informarsi videogiochi in questo periodo dedicatevi fermamente a The Last of Us 2 perché non è un gran bel gioco è un gioco importantissimo ed è un capolavoro quindi non aggiungo carne a nessun fuoco io invece cito un prodotto che è uscito su Epic Game Store quindi bisogna avere il pc per giocarlo ed è formalmente un survival molto classico un titolo di quelli in cui si raccolgono le risorse si sviluppa insomma la propria base il proprio quartier generale e si cerca di sopravvivere più a lungo possibile in un ambiente ostile si chiama Among Trees e la sua particolarità è che quest'ambiente ostile è anche molto molto delicato nei colori nella rappresentazione ha un tocco di Firewatch per chi conosce le avventure di stampo narrativo e finisce a quanto ci piace a noi a Napurna e quel mondo lì esatto finisce per essere stranamente rilassante nel senso che c'è sempre questa tensione legata al fatto che comunque insomma se non ti muovi se non raccogli materie prime poi finisci per morire di fame di freddo o ucciso da qualche bestia feroce che sono comunque bestie insomma tipo orsi o creature del bosco però in questo contesto molto bucolico andare avanti è molto molto piacevole c'è anche una modalità zen che riduce le difficoltà e quindi per rilassarsi e vivere questa avventura con un lieve senso di progressione in cui poco a poco costruisci questa vecchia ricostruisci questa vecchia capanna secondo me è interessante Among Trees fra gli alberi avete ascoltato la gloriosa quattordicesima puntata di Joypad ovvero corri salta e spara grazie a tutti Grazie.